43 spettacoli teatrali, 28 spettacoli per ragazzi e 5 concerti di musica jazz. Sono questi i numeri della dodicesima edizione della Riviera dei Teatri. Il circuito teatrale itinerante promosto dalla provincia di Savona vede l'adesione di 8 comuni, Alassio, Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano, Ortovero, Pietraligure e Quiliano, con il contributo dell'assessorato al turismo della Regione Liguria. La stagione teatrale si aprirà il 27 novembre per chiudersi il 23 aprile 2009. Da segnalare anche lo spettacolo solidale Tutti Uguali, Tutti Diversi, che si iterrà domenica 21 dicembre a Cairo Montenotte ed il cui incasso sarà devoluto all'associazione Dottor Franco Guidorossi, che si occupa dell'assistenza domiciliare gratuita per i malati terminali di cancro. In un momento in cui la fase mondiale segna dei meno, la Riviera dei Teatri fa più, più spettacoli. Passiamo da 39 a 43, più promozione. Quest'anno andremo a promuoverla sui magazine a livello nazionale. Facciamo più qualità e soprattutto più offerta. E questo è un segnale che non solamente la provincia, ma anche i comuni investono. Cosa vuol dire per un comune puntare sul teatro? Beh, vuol dire che è un comune che crede alla cultura, crede al fatto che la cultura sia parte integrante di un paese e che pensa che i soldi spesi per la cultura, quindi per il teatro, siano soldi ben spesi. La cultura fa turismo, è parte integrante del turismo e secondo me non c'è turismo se non c'è anche cultura.